Palazzo Zanche da settimane alle prese con i problemi derivanti della mancata approvazione del previsionale 2015 attualmente all'esame dei revisori dei conti e l'assenza del bilancio in questi ultimi giorni ha provocato pesanti conseguenze anche sulle partecipate AMAM e messi in ambiente con l'amministrazione che comunque non rinuncia a portare avanti il pallino della super AMAM e conta entro marzo di portare in consiglio le delibere che sanciranno la nascita di un'unica azienda che gestirà acqua e rifiuti. L'unico documento che manca all'appello dopo l'approvazione del piano Aro e la stesura del contratto di servizio è il business plan che è stato già trasmesso ai vertici dell'AMAM la scorsa settimana e che il CDA finirà di esaminare in questi giorni. Dopo l'ok del consiglio di amministrazione le delibere che i revisori dei conti hanno chiesto di scorporare passeranno all'esame del consiglio comunale. L'assessore Ialacqua conta di trasmettere i documenti entro marzo per l'approvazione in aula e proprio marzo spera Ialacqua dovrà essere il mese della svolta per il settore rifiuti con l'avvio di due campagne informative sul porta a porta.